Il suo cuore non ha retto ed è morto mentre lavorava in un cantiere edile vicino casa a San Pietro in Campo. È stato un malore ad uccidere Loreano Bulgarelli, ex operaio dipendente del comune di Barga di 71 anni e molto attivo nel comitato paesano. È questo che ipotizzano i carabinieri di Barga che stamattina si sono precipitati sul posto non appena ricevuto l'allarme, attorno alle 9.30. Per il pensionato, che lascia la moglie e due figlie, non c'è stato niente da fare. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Bulgarelli si trovava all'interno del cartiere per la ristrutturazione di un immobile in località Stefanetti, per dare una mano agli amici che sono vicini di casa. Ex addetto alle manutenzioni delle fontane comunali, il pensionato si era messo al lavoro quando all'improvviso si è sentito male. Un testimone ha raccontato di averlo visto impalidire e poi accasciarsi ad una catasta di materiale edile, perdendo i sensi. I disperati tentativi di danimarlo si sono rivelati vani. A Barga era molto conosciuto per il suo attivismo nei comitati, in particolare in quello di San Pietro in Campo. Volto conosciutissimo tra gli organizzatori della Sagra del Maiale, aveva lavorato per molti anni come operaio del comune. In passato aveva vissuto qualche tempo in Scozia insieme al fratello Lauro aprendo un'attività.